Il giudice delle donne, il romanzo di Maria Rosa Cutruffelli, racconta un episodio ingiustamente messo da parte, quasi dimenticato della storia italiana. Si tratta dell'avventura di un sogno di un gruppo di giovani maestre di periferia in una cittadina molto piccola delle Marche che si mettono in testa di riuscire a raggiungere il voto per le donne, un suffragio universale. Grazie all'aiuto di un lungimirante magistrato, Ludovico Mortara, siamo nel 1906, con un linguaggio molto evocativo, capace di raccontare con minuziosità i fatti ma anche di scendere nelle pieghe dei sentimenti dei personaggi. Oggi l'autrice Maria Rosa Cutruffelli riesce quindi in questo bellissimo romanzo che racconta storicamente ma anche in maniera sentimentale la vicenda di questo gruppo di maestre e insieme a questo anche un altro personaggio chiave che è una bambina che appunto fa parte della classe di una delle maestre e che si trova in una situazione un po' disagiata. Questo micro racconto nel racconto si intreccia nel questo romanzo, il giudice delle donne di Maria Rosa Cutruffelli.